Mascara l'abbiamo scelto intanto per il nostro simbolo sia di squadra che di società. Volevamo mettere tutta la squadra ma ancora la squadra non è quasi tutta completa, quindi abbiamo scelto per Mascara simbolo di questa nuova avventura. Rischiamo poi di chiudere sia la tribuna Siringo che gli spogliatori per l'agibilità. Io dico sempre che abbiamo fatto la squadra degna del Siracusa, quindi se voi mi volete dire sempre che dobbiamo vincere il campionato non lo dirò mai fino alla fine. Un Siracusa che avrà fame sia dentro che fuori casa perché sarà un girone particolare rispetto agli anni precedenti. Vediamo Giarra, vediamo Paternò, Acireale, Vittoria, Modica, Milazzo. Sia il mister Anastasi che io con tutto lo staff già conosciamo bene il campionato di eccellenza quindi sarà duro anche se noi andiamo a giocare a Castelbuono, non sarà facile. Oggi andiamo con l'Atletico Gela a fare questa trasferta, poi il giorno 12 giocheremo con lo Sporting Priolo e il 19 saremo a Caltagilone con la Leon Fortesi. Penso che la nostra idea è fare, come dicevo prima, in conferenza stampa, fare ogni giovedì partita amichevole, aperte a tutta la provincia di Siracusa e dare spazio a chi vuole venire. Lunedì presentiamo il nuovo sponsor ufficiale, in questo momento non posso dire nulla, però già siamo a buon lavoro. Contrato firmato? Forse anche stasera. Buon lavoro.